Gli africani neri non hanno mai fatto niente di utile, non hanno scoperto niente, non hanno cambiato nulla della storia del mondo. Che cosa hanno fatto per migliaia e migliaia di anni lì in Africa sotto il sole? Solo a pensare a fare sesso con le negrette, questa è la verità, non hanno combinato niente di utile. Ma è proprio vero. Eh no, mi dispiace, non è vero. Perché noi dobbiamo agli africani una serie di scoperte incredibili sull'agricoltura, sull'osservazione delle stelle, sulla gestione dei canali, dell'irrigazione. Le grandi culture che si sono sviluppate lungo i grandi fiumi, il Nilo, il Tigri, le Ofrate, eccetera, eccetera, Yangtze-Kyang, il fiume giallo, sono state create dall'apporto tecnologico delle popolazioni nere dell'Africa. E infatti sono questi pescatori, contadini neri che iniziano le grandi bonifiche delle paludi lungo il Nilo e gli altri grandi fiumi. Sono loro che rendono possibile il passaggio dalla società nomade alla società stanziale. Sono loro che inventano i rudimenti dell'agricoltura, della metallurgia, la scrittura, le prime forme di scrittura e tutti gli attrezzi che servivano per vivere a quei tempi. Ma non solo. L'astronomia, la matematica, la geometria, sono tutte scoperte che noi dobbiamo ai neri. E i neri sono arrivati in Egitto, sono arrivati in Cina. Gli Shang, la popolazione che colonizza la Cina nel 1500 a.C., parliamo di 3500 anni fa, erano in parte neri. e ci sono proprio degli imperatori neri. E questa civiltà in Cina è quella che ha posto le basi della coltivazione del riso, della costruzione dei grandi canali. Sono arrivati persino in Messico. Abbiamo trovato, non noi personalmente, ma i ricercatori hanno trovato addirittura dei vasi di Shang, in Messico, negli scavi degli insediamenti olmechi. Insomma, qui c'è un grosso problema. Non ci hanno raccontato la verità sull'Africa. Non ci hanno raccontato che c'erano città in Africa enormi, contemporanee ai sumeri. Parliamo di 5500 anni fa. Tutta la storia dell'Africa nera, tutta la storia del contributo che gli africani neri hanno dato alla storia del mondo è stata cancellata e noi vogliamo raccontarvela.